L'abbiamo studiato, l'abbiamo anche amato, è forse il mito più famoso di Platone, di tutta la storia della filosofia. Il settimo libro della Repubblica, che è l'opera più famosa di Platone, abbiamo imparato che Platone parla di gnoseologia, cioè di conoscenza, dei vari gradi della conoscenza dell'uomo. Noi però abbiamo un po' giocato con questo mito, abbiamo dato altre interpretazioni, però prima vediamo qual è l'interpretazione platonica, quella classica. Chi è che vuole parlare di conoscenza, dei gradi di conoscenza? Qual è il primo grado di conoscenza dell'uomo che sta dentro la caverna? Allora, il primo grado di conoscenza è l'eicasia, che va tradotta con immaginazione e ha a che fare con la radice eic, di somiglianza, apparenza, però diciamo che va depurato da tutti i significati che le attribuiamo noi. Bene, poi c'è un grado un pochino più elevato, siamo sempre nel regno della doxa, chi è che vuole parlare del secondo grado di conoscenza, della pistis? La pistis è una conoscenza appunto che fa parte della doxa, l'opinione, ed è una conoscenza influenzata e manipolata da qualcun altro. Nel mito della caverna è i prigionieri che credono che le ombre proiettate sul muro siano oggetti reali, appunto sono dotati di pistis. Sì, diciamo, ancora dentro la caverna, quindi con un grado di conoscenza, di un grado, usciamo dalla droga, quindi entriamo a livello dell'emistere. Chi è che vuole parlare di questo livello di conoscenza? La pianoia nel pensiero di Platone è la conoscenza razionale in cui date determinate premesse ne trae delle necessarie conclusioni. quindi è la conoscenza, soprattutto, masmanico, procedurale, ma c'è una conoscenza di livello assoluto del tuo parto? Sì, l'anoesis è il grado più alto della conoscenza platonica. Dopo essersi liberato dalle catene, il peggio nero esce dalla caverna e riesce a concepire il mondo vero, il mondo reale, il mondo delle idee, la cosiddetta intellezione, il grado più alto della conoscenza platonica. Bene, grazie ragazzi. Questa è l'interpretazione platonica. A noi piace giocare con i miti, con la filosofia. Che tipo di interpretazione possiamo dare? Magari psicologica? Che significa uscire dalla caverna? Quale potrebbe essere un'esperienza che ci fa uscire da una prospettiva limitata? In fondo uscire dalla caverna significa cambiare prospettiva, guardare oltre. Chi è che vuole parlare di questa interpretazione? Secondo me è possibile cambiare prospettiva solo nel momento in cui ci si riconnette con se stessi, con la natura, con lo spazio che ci circonda. E per questo un'esperienza necessaria per avere una sorta di intellezione è proprio il distacco dalla tecnologia e dai strumenti tecnologici rispetto a un'immersione totale nella natura. Molto interessante. Voi avete vissuto un'esperienza negli ultimi mesi che è appunto la famosa DAD, didattica a distanza. In fondo, come dire, vi siete un po' sentiti prigionieri in una caverna? Vi siete un po' sentiti limitati? Una prospettiva limitata? Cosa è mancato? Beh, sicuramente la DAD è stata per tutti noi un periodo difficile perché siamo stati privati del confronto con i nostri compagni, con gli insegnanti e penso anche che in questo periodo per noi uscire dalla caverna sia stato un metterci in sfida, metterci in gioco con noi stessi per appunto riuscire a superare quella che comunque era una barriera, quindi l'assenza del contatto e di quella che era la normalità. E possiamo dire che il nostro uscire dalla caverna sia stato anche il ritrovare la normalità o comunque trasformare la DAD nella nostra normalità e andare avanti nello studio e nel nostro compito. Riprendendo il discorso di Cecilia credo che proprio questo laboratorio in questo momento dopo tanti mesi a casa sia proprio l'occasione per uscire dalla caverna. Comunque ci troviamo in mezzo alla natura e vedremo che proprio la natura sarà la chiave di svolta del mito platonico. E quindi è importante appunto in questo momento cercare anche di divertirci, di confrontarci e passare del tempo insieme anche senza mascherine, seppur distanziati, che è una cosa che ci manca da tanto. In una dimora sotterranea a forma di caverna pensa di vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli con le gambe e il collo incatenati in modo da dover restare fermi e da poter guardare solo in avanti incapaci a causa della catena di girare il capo. Per tali persone la verità è costituita proprio dalle ombre degli oggetti artificiali. Ammetti che capitasse loro un caso come questo, che uno si sciogliesse e fosse costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce e che così facendo provasse dolore e il bagliore lo rendesse incapace di scorgere quegli oggetti di cui prima vedeva le ombre. Che cosa pensi che risponderebbe se gli si dicesse che prima vedeva immagini vuote e prive di senso, ma che ora essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti che hanno più essere può vedere meglio? E giunto alla luce, poiché i suoi occhi sono abbagliati, non potrebbe vedere nemmeno una delle cose che ora sono considerate vere. Alla fine potrà osservare e contemplare il sole quale veramente è. Se il nostro uomo ridiscendesse e si rimettesse a sedere sul medesimo sedile, non avrebbe gli occhi pieni di tenebra venendo all'improvviso dal sole e non si direbbe di lui che dalla sua salita è tornato con gli occhi rovinati e che non vale neppure la pena di tentarvi salire. E se cominciasse a sciogliere e a condurre su quei prigionieri forse non lo ucciderebbero se potessero averlo tra le mani.